Filippo Caracciolo si è dimesso dall'incarico di assessore regionale all'ambiente in seguito all'avviso di garanzia ricevuto dalla procura di Bari per corruzione e turbativa d'asta nell'ambito di un'inchiesta su una gara d'appalto da quasi 6 milioni di euro per la costruzione della scuola media Giovanni XXIII di Corato, vinta da una società riconducibile all'imprenditore Massimo Manchisi, la stessa persona che finì agli arresti lo scorso 5 dicembre nell'inchiesta su Arcapuglia e su un presunto giro di tangenti che ruotava attorno al suo direttore generale Sabino Lupelli. Secondo l'accusa sostenuta dal PM Savina Toscani, Caracciolo avrebbe esercitato pressioni sul presidente della commissione aggiudicatrice, l'attuale dirigente ai lavori pubblici del comune di Barletta Donato Lamacchia affinché la gara per la costruzione della scuola Coratina venisse vinta dalla società di Manchisi. Sempre secondo la procura, Lamacchia avrebbe accettato di pilotare l'appalto in cambio di una sistemazione lavorativa all'Arpapuglia. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici e le abitazioni di Caracciolo e Lamacchia, entrambi finiti nel registro degli indagati insieme a Lupelli e Manchisi, sequestrando computer, cellulari e in tiri faldoni di documenti. I finanzieri tenevano d'occhio sin dallo scorso settembre gli spostamenti degli indagati, monitorando incontri e cene a cui avrebbero preso parte, secondo l'ipotesi della procura, per definire gli accordi propedeutici alla giudicazione della gara, che effettivamente venne vinta dall'Associazione Temporanea di Imprese, composta anche dal consorzio di cui fa parte la società dell'imprenditore Manchisi. Il ricorso al TAR, presentato dalla seconda classificata, avrebbe dato avvio alle indagini della procura. Caracciolo ha dichiarato la sua totale estraneità ai fatti contestatili ed espresso piena fiducia nell'operato della magistratura, precisando che le accuse mosse a suo carico non riguardano l'attività istituzionale svolta in questi mesi. L'ex assessore si augura una rapida conclusione delle indagini, data la concomitanza con l'appuntamento elettorale che lo vede candidato alla Camera, in quota PD, alle elezioni politiche del 4 marzo. Le dimissioni di Caracciolo sono state apprezzate dallo stesso presidente della regione Michele Emiliano, che le ha definite un gesto responsabile a tutela delle istituzioni rappresentate. Il governatore pugliese si dice fiducioso del fatto che Caracciolo chiarirà completamente ogni dubbio sollevato dall'autorità giudiziaria sulla sua condotta. Le deleghe dell'esponente PD Barlettano sono state intanto trasferite all'assessore al bilancio Raffaele Piemontese.